Governatore Socievo, lei è il distretto qui a Teggiano per il Club Day, cosa significa Club Day? Club Day è una giornata dei club, una giornata dei presidenti, una giornata per l'istruzione dei nuovi soci, una giornata per sviluppare l'effettivo dei club e per espandere i club nei territori là dove ancora non ci sono roteri. Noi diciamo che ovunque c'è un gambanile, ovunque c'è una torre, lì ci deve essere un roteri, perché lì c'è l'uomo e lì c'è bisogno del roteri che difende la dignità e la libertà degli uomini. Quali devono essere le caratteristiche per un roteriano? Le caratteristiche per un roteriano sono essenzialmente un'elevata professionalità ma che ha accoppiato a grande rettitudine morale, a grande impegno etico nella sua professione, a grande comportamento etico nella sua professione e quindi essere disponibile verso gli altri e dare senza chiedere essenzialmente, lavorare per riscattare il proprio territorio e la propria comunità. Il roteri è noto per aver combattuto per l'eradicazione della poliomilite nel mondo. Oggi è impegnato, l'ha detto nel suo intervento, nella ricostruzione dell'Aquila. Qual è il contributo che il roteri sta dando alla costruzione delle zone terremotate dell'Abruzzo? Bene, i dieci distretti italiani si sono impegnati a ricostruire la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila. Il nostro distretto a giorni invierà una somma notevole, circa 90.000 euro raccolte tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno e stiamo sensibilizzando i nostri club attraverso manifestazioni di solidarietà o comunque attraverso contributi personali a cercare ancora di portare ulteriore solidarietà ai nostri amici dell'Abruzzo per far sì che i giovani di quella terra possano usufruire ben presto della facoltà di ingegneria e delle strutture scolastiche.